Musica Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quartariti. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di Cava dei Tirreni. Tre proposte da parte della Confesercenti per migliorare la viabilità e gestire il carico e scarico merci a Cava dei Tirreni, anche per salvaguardare il centro storico cittadino, la cui pavimentazione risulta sempre più rovinata a causa dei mezzi pesanti. Carico e scarico merci, sosta e viabilità. Queste le tre proposte da parte della Confesercenti Cava dei Tirreni all'amministrazione comunale. Il presidente di Confesercenti Cava dei Tirreni e consigliere della Camera di Commercio di Salerno Aldotrezza chiede infatti di rivedere il regolamento dell'occupazione degli stali di sosta blu da parte dei residenti nelle aree del centro cittadino e propone che dalle ore 9 alle ore 12 e 30, esclusi domenica e festivi, siano lasciate libere dai residenti le strisce blu per consentire una più efficace rotazione delle auto a beneficio dell'utenza commerciale proveniente anche da altre città. A titolo sperimentale, inoltre, si propone di riservare in un'area parcheggio del Trincerone uno spazio con 10 stalli con sosta gratuita per la prima ora e pagamento di un ticket di 5 euro per le successive al fine di consentire uno shopping veloce al centro e scoraggiare occupazioni di stalli per lungo tempo. Infine, a seguito delle richieste pervenute dai commercianti, si propone di regolamentare il carico e scarico merci nella fascia mattutina, anticipandolo dalle ore 8 alle ore 12, in quanto alcune tipologie merceologiche necessitano di poter essere scaricate prima. Inoltre, a salvaguardia del centro storico dove è sempre irrisolto il problema della pavimentazione che a causa dei mezzi pesanti è in perpetuo o pessimo stato, si propone il divieto assoluto di transito per tali automezzi e la predisposizione di aree di sosta adeguata ai mezzi pesanti. Per quanto riguarda il problema del traffico su Corso Mazzini, con code interminabili fino all'epitaffio, è risultata inefficace la segnaletica di avviso predisposta dalla Meteglia per cercare di dirottare gli automobilisti sulle aree di via Gramsci, per non parlare del parcheggio dell'area mercatale troppo distante dal centro. Per cui, oltre a predisporre un apposito servizio con personale Meteglia e Polizia Urbana, per evitare le code, si propone riattivare pannelli informativi e relativo costorario dei parcheggi in area chiusa già all'uscita dell'autostrada ed attivare anche strumenti come app per cellulari che aggiornino in tempo reale sullo stato dei parcheggi cavesi. Parliamo ora di scuole perché è stato presentato stamani a Palazzo Sant'Agostino a Salerno il quadro complessivo degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza provinciale. Riguarda interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza degli istituti scolastici dell'intera provincia di Salerno, il piano è illustrato questa mattina a Palazzo Sant'Agostino dal presidente Michele Strianese. Quattro progetti per un importo totale di 18 milioni di euro sono relativi alla normativa antisismica, interesseranno l'Istituto Tecnico Vambitelli di Cava dei Tirreni per 5 milioni di euro. Stessa cifra per il Galilei di Palo di Salerno, Litis Pacinotti di Scafati, i restanti tre a Liceo Cicerone di Sala Consilina. Ma l'elenco degli interventi e dei fondi a disposizione è più lungo e riguarda anche un altro decreto per la verifica della vulnerabilità sismica per un importo di 3 milioni e mezzo di euro che interesserà 21 edifici scolastici, mentre un altro milione e mezzo riguarderà 5 scuole per lavori di manutenzione straordinaria. In questo elenco compaiono anche il Liceo Classico Tasso di Salerno che riceverà 200 mila euro anche per l'adeguamento strutturale ed impiantistico, così come il Liceo Vico di Nocede Inferiore. 530 mila euro andranno al Liceo Caccioppoli di Scafati per i lavori di completamento della palestra, mentre altri 23 progetti verranno finanziati per la messa a norma antincendio. A Salerno in questa lista ci sono il Santa Caterina da Siena, il Severi, Regina Margherita e l'Alfano I. La provincia sta lavorando sull'edilizia scolastica in maniera incessante. La conferenza stampa di oggi vuole dimostrare l'impegno di questa amministrazione, di questa presidenza sulla problematica annosa della sicurezza statica, ma anche impiantistica, antincendio di tanti edifici scolastici che la provincia gestisce su tutto il territorio. Sono circa 138. Stiamo lavorando per rendere davvero reali gli interventi di messa in sicurezza su circa 4 milioni di euro che sono stati finanziati dalla Regione Campania già alcuni mesi fa, sono stati decretati i progetti preliminari, sono stati orientati i fondi e ora finalmente approviamo i vari progetti esecutivi e appaltiamo le prime opere. Quindi circa 3 milioni e 600 mila euro finanziati dalla Regione Campania si spenderanno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sfruttando anche la pausa estiva delle attività didattiche. Ovviamente l'elengo è lungo delle strutture che andremo a toccare, a partire dal sud della provincia, da Sapri fino all'Agroncino Sarnese, passando per Salerno, l'area dei Vicentini, la Piana del Sene. Quindi lavoriamo un po' su tutto quello che è prioritario. Poi sono in corso gare per milioni e milioni di euro di finanziamenti grandi come quello di 5 milioni per il Van Vitelli di Cava dei Tirreni e poi la Regione Campania ci ha finanziato un altro milione e 540 mila euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento anti-ingendio. Sono piccoli interventi da 70 mila euro cada uno su 23 edifici scolastici della provincia e su questi stiamo facendo i progetti esecutivi. Sono piccoli interventi che serviranno per migliorare la sicurezza anti-ingendio, quindi realizzare scale di emergenza, forniture di estintori e quant'altro, segnaletica interna, segnaletica di sicurezza. Per cui stiamo rendendo esecutivi una serie di atti di programmazione fatti già alcuni mesi fa per fare in modo che durante l'estate si realizzino davvero questi lavori. Sistemiamo bagni, sistemiamo impianti, infissi, ci sono edifici scolastici che ho visitato in provincia per i quali sicuramente non viene fatta manutenzione da alcuni decenni, quindi immaginiamo un po' qual è la situazione. Ovviamente ci confrontiamo con una situazione disastrosa perché la richiesta di interventi, la necessità di miglioramento delle situazioni è assolutamente incompatibile con quelle che sono le risorse che sono estremamente ridotte rispetto a quelle che sarebbe la effettiva necessità. Ultime ore di campagna elettorale. Domenica si vota sia per le europee che per le amministrative in 49 comuni del Salernitano. È guerra al manifesto abusivo in vista delle elezioni in programma domenica 26 maggio quando si voterà per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo ed in provincia di Salerno anche in 49 comuni per l'elezione del sindaco il rinnovo del Consiglio comunale. Nelle ultime ore di campagna elettorale, domani sarà il giorno del silenzio, il Comune di Mercato Sanseverino ha svolto, come rende noto il sindaco Antonio Somma in un comunicato stampa, un intenso programma di controllo assegnato alla Polizia Municipale per l'affissione dei manifesti elettorali individuati in spazi non consentiti oppure in spazi destinati ad altri candidati. Un'azione, ha sottolineato il sindaco di Mercato Sanseverino, tesa a tutelare non solo il rispetto della legge, ma anche chi invece ha osservato e rispettato tutte le norme. I trasgressori saranno ora sanzionati. Controlli anche a Salerno, dove il Comune intanto ha fatto sapere attraverso una nota che il seggio numero 84 è stato trasferito dall'ex edificio scolastico di Via Rufoli all'istituto comprensivo V di Via Sant'Angelo a Dogliara. Gli elettori interessati sono quindi stati invitati ad andare a votare nella nuova sede, anche se sulle tessere elettorali sono riportate le precedenti ubicazioni. Ritornando alle elezioni, le rurne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23. Per l'Europe è possibile esprimere fino a tre preferenze, una delle quali di genere diverso. Lo scrutinio seguirà una tempistica ben precisa, si procederà nella serata di domenica allo spoglio delle europee, mentre solo nella tarda mattinata di lunedì 27 maggio si parterà con lo scrutinio delle elezioni amministrative nei comuni interessati dal voto. Per gli eventuali battaggi la data individuata è domenica 9 giugno. Nella provincia di Salerno i comuni con il possibile doppio turno sono Baronissi, Scafati, Pagani, Sarno, Capaccio, Pestum e Nocera Superiore. Parliamo ora della questione viabilità in costiera amalfitana. Previste targhe alterne e limitazioni per gli autobus nel piano condiviso in prefettura. Ora si attende l'ordinanza definitiva dell'ANAS. L'incontro avvenuto ieri in prefettura potrebbe aver sancito l'inizio della svolta definitiva ai disagi causati dal traffico intenso in costiera amalfitana. Durante la conferenza, infatti, è stato redatto un accordo sulle azioni urgenti di intervento per una viabilità rinnovata. Un programma ben articolato di obblighi, di vieti e limitazioni in relazione alle evidenti esigenze condivise firmato da ANAS, Regione Campania, provincia di Salerno e dalla quasi totalità dei comuni della costiera. Secondo il documento, in buona sostanza, i non residenti potranno accedere alla divina a talche alterne dalle 9 alle 18, nei giorni di sabato e domenica, nelle settimane comprese tra il 15 giugno ed il 30 luglio e tra il 1 e il 30 settembre 2019, nonché per l'intero mese di agosto. Sarà regolamentata anche la circolazione degli autobus del Servizio Autorizzato di Trasporto pubblico locale, ma anche dei vettori privati, gli operatori economici e turistici della costiera ed ancora di vieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i mezzi superiori ai 10,36 m. Senso unico di marcia per i mezzi fino ai 10,36 m da Positano a Vietri sul Mare, di vieto di transito da Vietri sul Mare a Positano per i mezzi compresi tra i 6 e i 10,36 m, dalle 11 alle 16. di vieto di transito da Amalfi a Positano per i mezzi compresi tra i 6 e i 10,36 m, nella fascia oraria, compresa tra le 16 e le 19. Ed ancora, dal 15 giugno fino al 31 ottobre 2019, si metterà in campo un piano di viabilità da parte delle polizie municipali del territorio per regolamentare la circolazione in senso alternato. Ora però si attende in merito una nuova ordinanza dell'ANAS. Noi stiamo collaborando affinché si possa trovare una vera soluzione con ANAS, abbiamo rimarcato più di una volta anche l'assenza di manutenzione, ANAS ci sta ascoltando, sta reperendo i fondi per installare i specchi convessi per accentrare un'attenta potatura dei rami sporgenti. Sta cercando di chiudere quei cantieri aperti ormai da tempo che comunque paralizzano la costiera in alcuni punti. Con le forze dell'ordine, polizia locale stiamo cercando di fare un piano di controllo per evitare tutte quelle vetture in sosta. Ovviamente i problemi ci sono e continueranno ad esserci, però si sta lavorando. Il tavolo tecnico che è stato costituito in maniera permanente, sta portando dei risultati abbastanza rilevanti. Quello che interessa a tutti sono le regole, creare una sorta di regolamentazione che possa essere efficace, però il problema non è tanto regolare il traffico, ma il problema sono i controlli. Stiamo cercando di capire dopo creata la legge chi deve essere il preposto a farla rispettare, perché le varie polizie locali, le varie amministrazioni lamentano proprio l'assenza di fondi per cercare di incentivare e di incrementare questi controlli. Stiamo lavorando e stiamo vigilando affinché questo avvenga in tempi brevi. C'è una data di scadenza che è quella del 9 giugno, la data che noi abbiamo proclamato lo sciopero. In quella giornata se non ci saranno veramente, saranno stati adottati veramente dei provvedimenti visivi con delle autorizzazioni limitate, con delle limitazioni certe, allora sicuramente quella giornata sarà una giornata epocale perché si farà lo sciopero e conseguentemente allo sciopero ci sarà una manifestazione di tutte le associazioni, comprese l'organizzazione sindacale, i lavoratori delle società pubbliche che cercheranno di far rispettare al prefetto gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali. E' stato inaugurato ieri sera a Dragonea, popolosa frazione di Vietri sul mare, il nuovo campo di calcetto. Vediamo il servizio. Taglio del nastro ieri sera a Dragonea al nuovo campetto di calcio nei pressi della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Dopo un lungo e travagliato iter che ha portato alla stipula di una convenzione tra la curia diocesana proprietaria dell'area ed il comune di Vietri sul mare, il campetto è stato ristrutturato con l'installazione di un manto in erba sintetica. All'inaugurazione, oltre al sindaco Franco Benincasa, erano presenti anche gli ex calciatori Franco della Monica e Ciro De Cesare. Particolarmente sono contento stasera perché si può vedere sotto gli occhi di tutti che ci sono decini di ragazzi a cui va il mio affetto, il mio saluto, la mia passione ed è rivolta tutta l'attenzione che ho avuto nei miei anni di amministrazione che stanno all'interno del campetto. Il campetto è un punto di ritrovo, è un punto di sport, è un punto di svago, è un punto anche di interlocuzione e di rapporto interpersonale fra coetanei ed evita che questi piccoli o con internet o in altra maniera possano prendere delle strade che alla fine si rivelano dei vicoli sciechi. E così, i valori ai quali eravamo attaccati qualche anno fa, credo che si debbano rispolverare. Il calcio, la bicicletta, ma non i valori, erano degli sport che alla fine davano pure un insegnamento educativo. Soddisfazione è stata espressa anche dal parroco di Dragonea, Don Ciro Emanuele Danello, poiché la popolosa frazione vietrese ritrova uno spazio di aggregazione sociale del tutto rinnovato. Questa sera è stato inaugurato il nuovo campetto di proprietà della parrocchia a disposizione della comunità sociale di Dragonea e non solo. E questo è stato possibile grazie all'intesa tra l'amministrazione comunale e la parrocchia di Dragonea. Trattative che erano iniziate alcuni anni fa, sin dal 2013, poi è stato un lungo iter per trovare i giusti accordi fra le parti maturati in questi ultimi tempi che hanno visto protagonista me in quanto amministratore parrocchiale entrato, subentrato nel 2017 e l'amministrazione comunale uscente. Ora ci attendiamo, come dire, altri step, altri passaggi da fare per la cura di questo campetto ma sarà compito di trattative con la nuova amministrazione che verrà. Ecco, possa questa essere una nuova opportunità per i bimbi, i ragazzi e gli adulti sia di Dragonea ma anche del territorio per crescere attraverso l'attività sportiva. Stasera la notte Blufonze che segnerà i festeggiamenti della Cavise per il centenario della fondazione. Il presidente Massimiliano Santorillo crede opportuno ripartire dal progetto tecnico già avviato con l'allenatore Giacomo Modica e con il direttore sportivo Giuseppe Pavone. La prossima stagione per la Cavese sarà sicuramente tra i professionisti. Nell'anno del centenario la tifoseria di Cava dei Tirreni sta per festeggiare questo evento che segnerà l'anniversario della fondazione del club Aquilotto. La squadra si allena ancora per alcuni giorni prima del rompete le righe ma la società potrebbe continuare con lo stesso progetto tecnico dell'annata che sta per concludersi. Giacomo Modica, l'allenatore, è legato alla Cavese da un contratto che scadrà nel giugno 2021. Il direttore Giuseppe Pavone potrebbe continuare anche lui con il club anche perché se il progetto di valorizzazione dei giovani calciatori ha già reso a sufficienza da garantire il raggiungimento del primo obiettivo, che era la salvezza, non è detto che non si possa riuscire in questo anche nella prossima annata di Serie C, benché il livello possa essere destinato a salire per le presenze di Bari, Foggia e Avellino. Modica ha avuto critiche da alcuni tifosi perché ha preferito in alcune partite comunque l'atteggiamento offensivo a scapito di uno più conservativo, ma ha avuto molti più consensi perché la sua squadra ha mostrato idee ben precise, ha quindi trasmesso la sua personalità al gruppo. Così Massimiliano Santoriello, presidente della Cavese, sul progetto tecnico futuro. Quest'anno per noi era importante conservare la categoria e ci siamo riusciti. Adesso con calma ci incontreremo con il direttore, con il mister per programmare la prossima stagione. Sicuramente da questo momento in poi, dopo questa lunga rincorsa dalla D a conservare la C, a cercare di fare una cosa in più, dobbiamo ancora sempre di più puntare sulla stabilità societaria e sportiva. Quindi dobbiamo essere consapibili della nostra realtà, siamo una piccola società, dobbiamo fare di tutto sempre per conservare la nostra categoria. Poi se riusciremo a fare meglio saremo tutti più felici. Sarà un campionato ancora più competitivo se faremo ancora il Girone C? Sicuramente con le squadre tra chi è stata promossa e quelle retrocesse, non so se dire più competitivo o no, perché poi ogni anno è una storia a sé e ci sono sempre le partite da affrontare. Noi faremo il massimo per conservare la categoria e per fare bene anche contro squadre importanti. Ci sarà ancora modica sulla panchina? Sì, il mister come il direttore ha un contratto, sì, fino al 2021. C'è tutta la buona volontà di rispettarlo e di andare avanti tutti insieme. È in programma domenica 26 maggio alla piscina comunale di Cava dei Tirreni un evento dedicato alle persone con disabilità che potranno cimentarsi in prove subacue. Lo sport può abbattere tutte le barriere. È proprio questo concetto alla base dell'interessante evento in programma domenica 26 maggio a partire dalle 9 del mattino alla piscina comunale di Cava dei Tirreni che consentirà alle persone con disabilità di cimentarsi sotto la guida di esperti istruttori in prove subacue. L'iniziativa è stata organizzata in sinergia dalla Cava Sports del direttore tecnico Giuseppe Fasano e dal Diving Center Sea Dragon, realtà di Cava dei Tirreni, presieduta da Nello Spatuzzi. Alle 9 arriveranno le persone con le varie disabilità e faremo una spiegazione con personale specializzato che è abilitato a portare in acqua i disabili e loro poi effettueranno una prova con l'erogatore, con la bombola e con le varie attrezzature di subacue. Diciamo che a Cava dei Tirreni grazie anche alla disponibilità del direttore della piscina di Cava dei Tirreni e anche del sindaco è in assoluto il primo evento che si verifica a Cava dei Tirreni. Con mia molta soddisfazione e gioia di questo per far capire, per lanciare un messaggio che anche a Cava dei Tirreni c'è anche questa realtà. Nel caso in cui qualcuno che ci ascolta in questo momento abbia voglia di partecipare a questa manifestazione, ha ancora in tempo per iscriversi? Assolutamente sì, può anche venire la stessa giornata di domenica, si presenta e gli facciamo fare la prova senza nessun problema. Ci fa molto piacere perché per la prima volta questa manifestazione è patrocinata dal comune di Cava dei Tirreni e ci fa piacere perché, ripeto, lavoriamo con bambini con delle difficoltà che è appunto una nostra prerogativa e priorità. Il telegiornale finisce qui, buon proseguimento di giornata, sempre in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti.